cariti spettatori tg villa di verzuolo solo notizie belle oggi ci addentriamo in una delle attività storiche del nostro borgo della villa è il panatella villa dove andremo a conoscere il nostro amico mattia che ci illustrerà il suo pane a lunga conservazione adesso andiamo e iniziamo il nostro viaggio all'interno del forno del panatella villa ed eccoci qua all'interno della panetteria il panatella villa siamo qua con mattia che mi raccontavi che oramai sia la terza generazione di panettieri ma quando risale questa panetteria possiamo dire che con molta probabilità questo era già il forno della dell'antica comunità medievale no perché siamo in un contesto di un centro storico che era abitato vicino qui al castello e l'edificio è molto antico poi è stato ristrutturato e quindi verosimilmente possiamo dire che è stato poteva essere appunto forno della comune del medioevo ma poi è diventato il forno diciamo la prima attività storica fondata nell'età quella post napoleonica come attività vera e propria e poi il forno qui è stato ristrutturato su un edificio già che era già strutturato in questo modo per cui diciamo che è molto probabilmente molto molto antica magari più di quanto noi possiamo immaginare e comunque noi portiamo avanti la ricetta storica del pane appunto sono le ricette che sono state tramandate appunto facciamo questa ciabatta questa non è la chiena la micca ma è di per sé una una sorta di ciabatta la piemontese e poi ovviamente ogni panettiere che ha lavorato qui ha ancora poi introdotto qualche novità qualche cosa di nuovo quindi e quindi tre generazioni oltre alla classica micca che ci parlavi prima che altri tipi di pane produci e poi proprio perché le tendenze del nuove sono si stanno spostando sul pane integrale allora facciamo diversi tipi di pane integrale con miscele differenti per esempio il farro la segale che appunto sta andando anche abbastanza di moda poi sta tornando un po di moda poi panni e multi cereali piuttosto che adesso per esempio la novità adesso per il pane alla valtellina che all'interno c'è grano saraceno integrale e semi di lino ed è una miscela molto buona se il pane sta venendo molto bene e poi e io comunque li faccio anche a lievito madre quindi ti ha ci parlavi di questo lievito madre che se ne sente sovente parlare ma ci racconti qualcosetta in più da come nasce come fatto e tutto quanto allora lievito madre parte da una pasta ma la chiamiamo pasta madre che di per sé un impasto lasciato a fermentare di pane classico un po in genere si usano farine un po più forti non un po più glutine diciamo comunque viene lasciato a fermentare e lui diciamo che un pezzo di pasta lasciato a fermentare ha una lievitazione naturale no quindi se con questo sulla base di questo principio facendo fermentare un impasto lungo e poi rinfrescare rigenerandolo quindi aggiungendogli togliendogli diciamo una parte di farina che ormai è consumata e diciamo acidifica si aggiunge nuova farina ripetendo questo ciclo per un periodo di due settimane in genere tre settimane così si crea questa pasta madre che è un concentrato di fermentazione di batteri diciamo di microrganismi che è naturale al cento per cento sicuramente naturalità del prodotto e artigianalità sono un giusto connubio per fare pane ma non solo ovviamente noi diciamo che poi specialmente sul pane sui grissini che utilizzando le fermentazioni naturali come abbiamo detto con procedimenti più lunghi si ottiene un prodotto che si conserva anche di più perché appunto ha una conservazione naturale no questo prodotto bene allora diciamo anche a tutti i nostri telespettatori sicuramente a tutti gli è venuta l'acquolina in bocca dove possono venire ad acquistare questi prodotti e noi ci trovate in via al castello 94 a verzuolo nel centro storico bene sicuramente cari telespettatori mattia e floriana vi aspettano nella loro panetteria venite a gustare ad acquistare i loro prodotti ve li porterete a casa e sicuramente sarà un momento per fare una passeggiata per le vie del borgo della villa di verzuolo arrivederci a tutti alla prossima puntata arrivederci 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 arrivederci